Buongiorno dottore, buongiorno, buongiorno dottore, buongiorno Oh paccaro, sempre in ritardo, figa, ma ascolta, tu lo chiami per dirgli delle cose importanti e non capisci un c***o Raga, questo è l'adesivo più costoso del mondo, manco le grafiche delle moto costano così tanto Siamo arrivati a Salerno ragazzi, siamo arrivati a Sarnen, c***o nevica, 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 si può Comunque non siamo venuti qua per girare outdoor ovviamente, ma siamo venuti per girare in un bike park al chiuso Le airbag e tutto quanto Ma ci vediamo subito dopo la sigla che vi spiego tutto Eeeh, me la sto per guardare malissimo, malissimo, però mi sono smesso ancora, no no Non fermo sto audio, c***o Facciamo una scommessa, chi è che si infila proprio nella rete E qui è dove tutti quanti oggi ci incastreremo malissimo, che è l'ending huge Abbiamo trovato casa del sasso, uomo da airbag, oggi si gira sull'airbag Tra l'altro ragazzi c'è anche una piccola lineetta da dort, ma adesso ci cambieremo, magari mangiamo anche qualcosa E poi andiamo a fare due saltini Uuuuh, big one Porca messia, una faccia di cesta con l'hamburger Uuuuh ragazzi la rietta Contestualizziamo un po' il tutto Siamo venuti qua a Cernan, in un park nuovissimo appena fatto Si chiama Wheel Park, in cui c'è un super airbag landing Figo, ma cosa bella è che hanno fatto tantissime lineette da dort, salti da dort Al chiuso soprattutto, perché da noi piove Anche se qui nevica Facciamo un girettino, vediamo com'è il posto Conosciamo un posto nuovo Il sasso mi ha detto, mi ha confessato che non si riesce a frenare Perché c'è pochissimo pianetto dopo la discida d'atterraggio Quindi la tecnica suprema è quella di arrivare corti Così avremo il tempo di frenare Piano piano Ok, va bene Quanto sono piatte le rampe Oh shit, non si ferma Attenzione, se devo dire sasso double whip Gasato, eh Gasato, convinto, dai Spacca tutto, zio Dai sasso, incazzato Is the time of the session that we have to do cash roll Perché raga, non so se l'ho detto, ma le rampe sono piattissime Il che vuol dire che quando tu spingi un trick le rampe non ti buttano in aria Non hai air time, non hai tempo in aria Per 3,6, solo 3,6 non dà super fastidio perché tanto non hai bisogno della poppata in alto È la rampa che non ti dà lo sgambetto proprio Un cash roll in teoria dovrebbe aiutarti Perché Toto dice che è molto bella per far fronni Quindi cash roll più o meno è un fronni 3 Mixiamo le cose e via La rampa è relativamente corta un pochino, non è lunga Butta la spalla fratella Eh dai Ok, vabbè vado a morire, ciao Madonna Mostra cibo È bruttissimo fare cash roll su sto salto ragazzi Non va dentro niente fronni, infatti sono tirato in manual Aiuta Maddina Mert Per altri cash roll sceni come questo Lascio il mio contatto Tu cattivo forte e si va dentro decisi Mi piego bene, faccio boom Oh, marboretto, gasolo Hai curvato così il rampa Niente, è andata, va bene Poteva andare più piano Un po' più veloce Oh, shit Desapparecidos Tanti auguri Se lo recuperavo andavo per terra Quindi meglio così Che bello però, scivola bene Inauguriamo o no sta bicicletta nuova qua? O la lasciamo così vergine fino al prossimo giorno al park? Oh, incazzato, è tu lo sai fare fratello? Vedete lo sguardo della tigre Incazzato! Un like per Luca che deve provare primo tailwhip su un salto abbastanza grossino Perché è già bello lunghino Ok raga, abbiamo dovuto fare un cambio di videocamera al volo Perché la GoPro con il freddo le batterie si scaricano subito Adesso vediamo di tornare su e filmare subito questo tailwhipino a Luca Perché è il momento, eh, dai Dai, eh, Luca, casato! Oh, oh, oh! È tuo, tieni giù il davanti! Portalo lì! È tuo! Sì, bimbo! Adesso vai più veloce! Tagli e sasso! Oh, damn, bro! E allora? Intanto qua, come vedete, ci sono tutte linette che passano dentro o fuori dai container Step downini, cose strane E qui c'è una linia da dirt Porco zio, quanto è grosso sto quarter Fica, arrivi da sotto e vedi Oh, shit! Perché salto di merda sul primo? Uè! 3-6 sul primo Bar, 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 bar Damn! Tra l'altro, ragazzi, biciclettina nuova, eh Avete visto nello scorso video spoilerata Lucchino il Cadarino ti delizia già di un bar sul secondo salto Look at this Oh, Dio! Bravo, Brosciutto Ci dropperà dal quarter della muerte Udi! Gli abbiamo insegnato bene, eh Si vede, maestro Ivo Pino Dai sui frutti Marci Guarda sui frutti Ma perché salto al dritto vado storto? Deve essere che sorrigio, non lo so Oh, shit! Damn! Fai Sassolo Easy, fratello Oh, shit! Attimi di panico e paura Totalmente appeso Sembrava a me sul primo prima Oh, madonna quanto sono secchi Oh, lo skinny Perso Oh, Rock Garden Madonna, quanto sono chiusi, raga Oh, shit! Aiuta! Oh, incrocio! Dai cosa? Fare sto percorso ti sento il gobo di Notre Dame Stai in giro così È lunghissima È una cagata Ma è anche divertente Sì Trenino della morte Oh, shit! C'è coda Mi, 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 mi C'è coda Oh! Riusciamo a fare i trenini come Livigno È un po' un party ride Party laps Fare in gruppo così ci stanno Ah, bello, bello Posso dirlo? Oh, questa ragazzi, secondo me È la linea più scenografica del vol Perché vai dentro al buio con il buio Non l'ha detto prima Lui L'ho copiato, no, no Oh, shit! Quanto è il trivolo oggi? Step downing è pato Secondo lungo fletto Quale? Il tortello prova la linea Damn Oh, shit! Il big train My God! Piccola linea dei ragazzi Possono vedere come si saltano I salti non in maniera alboretica Oh, non mi ha preso Oh, non mi ha preso Cazzo Super ingapping È lui? Il mio bro? Ecco, là Super ingapping Ole! Ehi! Eh! Oh! 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 Damn, bro! Eh! chi sei? warrior! l'ha gustata? grazie! oh! le mani! le mani non le vedi! ok raga, a parte un po' di inconvenienti tra batterie che si scaricano, videocamere che non funzionano, freddo, la neve, l'abbiamo fatta, abbiamo portato a termine questa giornata di riding veramente epica piccolo punto su questo bike park che siamo andati a vedere, strutture belle, non al top per i pro rider, però veramente un posto super divertente soprattutto tutte quelle lineette alternative super divertenti che in gruppo come siamo andati su noi è una figata esagerata finalmente i ragazzini della Monza Pizza Gang sono usciti dall'uscio di casa e sono andati a vedere posti nuovi è stata una super session, una figata, ci siamo gasati un sacco, infatti non vedo l'ora di riportare video di session del genere che è mega interessante vedere i ragazzi in altri contesti oltre a Monza Pizza Viper nulla ragazzi quindi se questo video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un bel like, iscrivervi al canale e ci vediamo in un prossimo video iscriviti al canale